Un commento sulla partita, che è stata abbastanza combattuta? Una partita un po' concitata, un po' nervosa, non ha aiutato sicuramente il campo perché comunque non erano perfette condizioni, però si sentiva la partita perché due squadre che vogliono vincere, vogliono arrivare, quindi era un po' sentita. I ragazzi comunque ci hanno creduto fino all'urto, ma anche in inferiorità numerica non hanno mollato. Ah, quella è la nostra prerogativa, mai arrendersi, mai abbassare la testa e cercare di fare del nostro meglio. Ci hanno un po' colto impreparati sulla reazione, sulla cattiveria che avevano, però abbiamo risposto bene per 100 minuti, penso. Eh sì, è stato lunghissimo il recupero e sicuramente i cambi non hanno fatto abbassare il livello tecnico della squadra. È vero, tutti i ragazzi si allenano per ottenere un posto il sabato e ahimè 11 possiamo scendere in campo, però bene, con la scelta in questo modo è sempre più facile. Anche perché questo è comunque un campionato difficile, dopo sono in tanti che vogliono emergere. Sì, e poi è un campionato lunghissimo, 34 partite, siamo solo alla decima, noi siamo in striscia positiva da tutte le 10 partite, abbiamo pareggiato questa e con il Castelnuovo a casa. Siamo soltanto a forse una lunghezza ora se il Levan ha vinto, ma insomma va bene, un campionato un battuto è più bello. Ebbene, bisogna continuare su questa strada. Grazie a te, buonasera.